Siamo estremamente grati innanzitutto alla curia, al cardinale, ma anche appunto come diceva le organizzazioni di volontariato, alla società civile in generale che rappresenta un partner essenziale nel fornire le cure a questi bambini. Non ci sono solamente i medici, non solamente le istituzioni, ma tutta la società. Noi sentiamo molto questo contributo, lo sentiamo tutto l'anno e di questo siamo estremamente grati. Quindi a nome di tutti i nostri piccoli pazienti io veramente ringrazio molto per questa solidarietà.